Sì, posso, assolutamente, sì. Allora, io ho fatto. Allora, potete vedere, c'è un po' di tutto. Ci sono le tante, non solo le tante. In realtà, ci siamo prestati a arrivare a qui le tante, dove le tante. Qui abbiamo le tante, le sapagini. E tu puoi comprare le tante e le tante che si vanno. Gli, 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 è un belico. Grazie. Grazie. Grazie.